Il degrado ambientale generato dall'abbandono di rifiuti è un problema che riguarda tutti. Rifiuti domestici, ingombranti e rifiuti speciali mettono a rischio la salute delle persone e dell'ambiente. Anche nel Vallo di Diano sono sempre maggiori i casi di rifiuti gettati illecitamente. Non stare a guardare. Segnalaci le discariche abusive presenti nel Vallo di Diano. Scrivi a segnalazione di scarica chiocciolaformicheoperaie.it e visita la mappa delle formiche al sito www.formicheoperaie.it